La bocciofila San Cristoforo di Fano ha centrato sabato scorso la promozione in Serie B, la terza serie nazionale di bocce. Sono bastati poco meno di 30 minuti alla squadra targata Sportland per chiudere la pratica Barcardelli dopo il netto 8-0 maturato nella sfida di andata. A mettere in cassaforte il match è stato il solito Gianluca Manuelli che grazie all'8-6 sul suo avversario ha reso vano l'esito delle altre partite. Un cammino netto fin qui da parte dei giallo-azzurri che ora saranno chiamati alla doppia sfida contro l'Avis Montecatini. Ultimo ostacolo prima della Final Eight in calendario a Campobasso i primi di novembre. A prescindere comunque dall'esito dell'incontro con la formazione toscana, Capitan Giovanni Iacucci e Sochi hanno centrato il primo obiettivo della stagione festeggiato con una maglietta celebrativa che in piena fanesitudine riporta la scritta quel che è bello è bello, quello che è bello è bello. Grazie a tutti.